A tale quale con Osar Racine il ricordo di Renato Carosone A tale quale con Osar Racine il ricordo di Renato Carosone A tale quale con Osar Racine il ricordo di Renato Carosone Tousar Racine il ricordo di Renato Carosone È belle facce, è belle cose, sape fa amore, è malandrina, è tentatore, si ho guardato per fa' innamore, è una bionda salverina, è una bruna salverina, ma è veneno che ha la mitra, chi sta femmina che le fa? O sarracine, o sarracine, bello uaglione, o sarracine, o sarracine, tutte femmina fa sospirà, è belle facce, è belle cose, sapeva amore, è malandrina, è tentatore, si ho guardato per fa' innamore, si ho guardato per fa' innamore, con una seconda scusa, s'ha figliata nel mio cuore. Sarracina di non ci schiù, hey! Oh, sarracina, oh, sarracina, bello guagliore. Oh, sarracina, oh, sarracina, tutto è fermo e ne va innamorà. Sarracina, sarracina. Oh, sarracina, oh, sarracina, bello guagliore. Complimenti. Bravo, bravo, bravo. Tenmi il microfono, Giovanni. Complimenti al nostro corpo di ballo, o sarracina pure, eh. Gioco forza, o sarracina. Devo iniziare per forza da Giorgio Panariello, no, da Vincenzo Salerno. Allora, i complimenti sono molteplici perché innanzitutto la pronuncia è davvero eccellente, la pronuncia del napoletano, ma tu sei, non ho capito, ma stai negando che abbiamo fatto un corso di due mesi e te andiamo. No, però, da Vincenzo, complimenti per la pronuncia. Hai trattato il napoletano come una lingua e quindi grazie, grazie, grazie che non hai fatto una caricatura della napoletana. Assolutamente. E poi un gigante della musica, perché questo è stato un gigante vero della musica, perché sembrano canzonette, ma sono piene di ironia, di forza. E poi la somiglianza, che non è precisa sicuramente, però questa parte qua, il trucco ha fatto, e anche io, ha fatto davvero un lavoro eccellente, secondo me. Complimento. Giorgio, Tu hai cantato un po' più bello. Questi grandi artisti che hanno fatto grande Napoli, poi, purtroppo... Ma poi cosa? Che ho quasi l'età di Carosone, se vuoi me la calziano ormai. Hai sentito che io ho pronunciato il nome di Vincenzo? Ma stai andando lì a parare. Senti, ma quando torna Siani che si fa due risate? Eh, mamma mia, eh, mamma mia. Richiamolo, perché... Dimmi cosa ne pensi di questa... No, all'isame, si è ripetendo. Guarda, io, perché ho aspettato la sua, il suo... Perché io lo guardavo lui quando c'era l'esibizione per capire, in effetti, avendo lui, conoscendo molto di più l'artista e avendolo guardato forse molto più di me, aspettavo la sua opinione. Quindi, secondo me, la somiglianza c'era, pure la voce, e quindi, secondo me, ha fatto un'ottima esibizione. Bene, Loretta. Ottima, Io trovo che musicalmente l'esecuzione sia stata ineccepibile. Il trucco, secondo me, è così e così. Ma lui è stato bravissimo, ha parlato, appunto, mi fido anche di Vincenzo, il napoletano ha affrontato benissimo e poi intonato, poi il tempo, e poi l'ironia, la faccia simpatica, come aveva Renato, tra l'altro, il piacere di conoscere. E quindi, complimenti a... Rita? Rita? Io ho trovato lui strepitoso come cantante, ha ragione lei, nel senso che questa parte qua, nel senso, ma più che il naso, la parte di sotto con i denti, la parte di sopra un po' meno, però, è talmente, era talmente vero, talmente, che se uno non la, se non la guardavi, era Renato Carosone. Bene, bene, Nino? E pure io penso che la parte di qua, è... No, conveniva che si mettesse un cappello che lo copriva fino a qua, e la parte di sotto era uguale, era uguale. Comunque, ha interpretato veramente, ha ragione, uno dei più grandi artisti che abbiamo in Italia, e Arbore, su Rai 2, lo festeggerà con uno speciale prossimamente. Prossimamente. Molto bene, accomodati pure. bravo, bravo,